ciao ragazzi benvenuti su mecciso flotus prima di iniziare questo nuovo fantastico video come sempre vi ricordo che potete iscrivervi al canale lasciare un like commentare si va attiva la campanella per rimanere sempre aggiornati vi ricordo anche che potete supportare il nostro progetto facendo un abbonamento su youtube a partire da 0 99 centesimi al mese oppure su twitch con amazon prime video l'avete gratuito ricordatevi di rinnovarlo di mese in mese vi ricordo anche il nostro sponsor fantasiastore.it uno dei store online più forniti italia spedizione in 24 48 ore così c'è sconto lotus 5 per avere 5 per cento di sconto sui prodotti non scontati se avete già acquistato da loro andate su trust pilot e lasciate una recensione perché sono vicini alle 8000 recensioni quindi potete aiutarli anche in questo modo allora ci sono i mondiali in corso sto registrando il video di venerdì notte simone è live io registro il video con le novità quindi siamo sempre sul pezzo per darvi il più velocemente e nel miglior modo in cui riusciamo tutte le notizie di magic hanno spoilerato a las vegas tantissime cose interessanti tantissime espansioni la la linea temporale delle espansioni di del 2025 quindi andremo a vedere tutto spoiler di alcuni si crede in anteprima è qualcosa che cambierà magic per come lo conosciamo oggi allora andiamo subito a vedere questa parte di spoiler eccolo qua questa è la linea temporale che hanno spoilerato quindi abbiamo either drift che dovrebbe essere un set incentrato su le macchine futuristiche eccetera le moto queste cose qua da quel che mi ricordo che avevano già detto prima dovrebbe essere così tra l'altro vi ricordo appunto siamo in live con i mondiali seguiremo tutti e tre i giorni il mondiale e la domenica faremo la tirata fino alla fine quindi se ci volete seguire fatelo perché potete commentare in italiano con noi il mondiale quindi uno dei tornei più importanti dell'anno di magic allora eccoci qua quindi a header drift il due il 14 febbraio 2025 perché in america si mette al contrario mese e giorno vedete 0 2 14 non 14 0 2 come siamo abituati noi poi abbiamo tarkir dragon storm che credo sia un set dove si torna su tarkir quindi draghi e cose di quel tipo molto molto bello a me è piaciuto tanto tarkir come flavor i set poi si possono giudicare belli o brutti e c'erano le fetch nel primo set di quel blocco perché esistevano ancora i blocchi ecco facciamo un mtg history prima fino a qualche anno fa esistevano i blocchi quindi le espansioni non erano assestanti ma erano collegate di tre in tre tantissimi anni fa è capitato anche in che è uscita una saga di espansioni un blocco di espansioni addirittura da quattro che quello di lorwin con lorwin shadow more vespro e un altro che non mi ricordo forse conflux non mi ricordo non voglio dire cavolate comunque un altro che era il quarta morning tide scusatemi morning tide aurora però di solito erano tre ed erano collegati quindi sempre sullo stesso piano con la storia che andava avanti bla 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 molto interessante a me piaceva molto perché ti faceva vivere un piano veramente in modo approfondito attualmente invece con questa frenesia di espansioni sinceramente si è perso molto il mi studio il flavor perché perché bloom borgo ragazzi per dire è già un set molto vecchio ed è uscito due mesi fa due mesi e mezzo fa c'è una cosa assurda nel mezzo sono uscite già tra secret layer misteri altre espansioni di standard eccetera veramente un delirio a me a me personalmente questa cosa non piace per niente ho perso molto della magia di magic cioè di dell'idea di dire sai siamo su quel piano esce la prima espansione poi c'è la seconda e la storia va avanti e poi la terza col finale della storia di quel piano c'è ti vivevi tutto un piano durante l'arco dell'anno poi d'estate usciva il set base che oggettivamente si poteva anche criticare si può e si poteva anche criticare però era un set con entry level molto basso fatto apposta per i nuovi giocatori che adesso non c'è più adesso la maggior parte dei set sono molto complessi e molto articolati poi abbiamo final fantasy ecco qua abbiamo il 13 giugno final fantasy e oggettivamente personalmente personalmente anzi non oggettivamente personalmente lo ritengo uno dei delle una delle collaborazioni che attendo con più ansia di magic di questo periodo storico io sono molto legato a final fantasy ho giocato a al 9 soprattutto poi tipo anche al 12 9 il 12 sono stati quelli che ho giocato veramente tantissimo 9 il 10 forse 9 il 10 9 il 12 non mi ricordo comunque ne ho giocati un paio veramente tanto siamo parlando di tantissime ore della mia vita e ci sono molto legato e prima o poi quando avrò più tempo libero voglio ricominciarli ho anche comprato posso dirlo anche comprato final fantasy 9 per cellulare e poi però ho fatto la parte iniziale poi l'ho lasciato lì perché purtroppo lo stimolo di dire ci investo tante ore non c'è oggettivamente purtroppo perché sono veramente per me due capolavori ma tutta la saga è un capolavoro e sono curioso di vedere come verrà introdotto in magic questo brand incredibile che a me piace tantissimo personalmente proviamo age of eternities lotto scusate il primo agosto d'estate e ai gioco eternities sinceramente non ho idea di cosa ci sia dentro non ho idea se avete qualche info scrivetela nei commenti ragazzi pur facendo i content creator è veramente difficile stare dietro a tutto quindi purtroppo è spider man abbiamo spider man non c'è una data e poi ub che è un altro set che non sappiamo ma andiamo a vedere cosa hanno spoilerato allora in strada remastered poi andremo a vedere vabbè ve lo spoilerò dai ve lo spoilerò qualche giorno fa ho fatto il video in cui vi consigliavo le carte a vendere e c'era o nell'ultimo nel penultimo video di quella rubrica mi sembra nell'ultimo c'era edgar markov ecco è stato ristampato quindi ci sarà in innistrad remastered era abbastanza scontato che ci sarebbe stato a breve e innistrad remastered è il set adatto dove metterlo anche perché un vampiro richiama molto flavor dell'espansione sono molto contento perché oggettivamente serviva una ristampa il prezzo è veramente troppo troppo alto e visto che la wizard stampa e ristampa tantissimo perché non ristampare edgar markov poi abbiamo eccolo qua vedete either drift vedete qual è il flavor di either drift è quello che vi dicevo c'è c'è andrà su una moto futuristica qua c'è un altro è questo qua poi abbiamo fino al fantasy qua qua vediamo ugin che però non so se è è riferito a anno eccoli tarkir dragon storm eccolo qua scusatemi tarkir dragon storm quindi ci sarà ugin e credo se sembra essere non posso dirlo in realtà non non sappiamo se ugin lo spirito drago quindi il drop a 8 che è già uscito oppure sarà una versione nuova probabilmente in realtà sarà una versione nuova vedremo comunque c'è ugin che spiace sempre piace sempre se non sbaglio ugin a due versioni attualmente una di war of the spark e una di fate reforged se non sbaglio è perché ne sono uscite c'è escono veramente troppe carte e questa potrebbe essere la terza che ci sta secondo me ecco per esempio l'approccio che hanno avuto con ugin con la carta ugin mi piace tantissimo cioè alla fine arrivare adesso ad avere tre versioni diverse di ugin ci sta non hanno mai neanche ristampato troppo quelle versioni quindi secondo me ci può stare alla grande poi abbiamo ecco questo dovrebbe essere c'è final fantasy ma non ci sono non c'è una foto riferita a quella perché edge of eternities e riferita a questo che dovrebbe essere ursa quindi abbiamo ursa quindi artefatti chris rulls ha fatto il disegno e già il disegno mi piace tantissimo quindi questo dovrebbe essere un set credo con gli artefatti a base artefattosa eccetera spider man forse dopo abbiamo anche degli spoiler su edge of eternities no non ce l'abbiamo non ci sono spider man eccolo qua e poi abbiamo dei secret layer e ci spoilerano o la tipologia oppure dei disegni ecco per esempio ci sarà spongebob squarepants devo dire ragazzi che tanto ormai secret layer sono vale tutto cioè potrebbero fare hello kitty veramente ormai non c'è limite i buffi potrebbero fare veramente tutto mi piace spongebob secondo me andrà anche molto bene andrà bene poi ovviamente dipende dalle carte che mettono però mi piace veramente tanto a me come flavor sono legato anche spongebob chi ha la meta lo guardava su italia 1 il pomeriggio quindi fa parte della nostra storia abbiamo altri secret layer che non vengono nominati per esempio c'è questo qua che non si capisce è una rider su una moto al chiaro di luna non si capisce che che carta potrebbe essere che la tipologia è questa qua sinceramente non mi fa impazzire ma il disegno è bello a me non mi fa impazzire questo stile ma il disegno è bello mi piace un altro con questa volpe se non sbaglio sul lupetto sì questo lupetto ecco questo stile qua un po più giapponese sollevante un po più squadrato non mi dispiace però anche qua non sappiamo di che tipologia stiamo parlando il food token a base di sushi qua abbiamo un un mago rosso con una mano che lo trattiene due mani che lo trattengono che lo provano a chiudere quindi anche qui altre carte si collegere qua invece abbiamo una montagna che sarà una carta di un secret layer quindi abbiamo la montagna si capisce tutto in questo stile fantastico altre carte miste ve le faccio vedere guardate che stili stranissime questo stile l'hanno già usato anche questo simile l'hanno già usato questo per esempio uno stile un po nuovo tra virgolette questo stile qua non mi sembra che ci siano secret layer fatti proprio così poi vedete altro stile giapponese 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 the foundations era expanding legality for universes beyond universa via legal in all format beginners new set in 2025 questo è un cambiamento epocale per magic veramente epocale e che probabilmente non mi trova così d'accordo allora i universos beyond saranno legali in tutti i formati a partire da 25 ovviamente quelli che usciranno dal 2025 credo ovviamente non quelli che c'è scritto così però specifichiamolo ovviamente solo quelli che usciranno dopo allora perché non mi piace perché si rischia di aumentare ancora di più power level di standard si rischia di creare tantissima confusione in standard pioneer perché ci saranno tante altre carte nuove legali quindi lo standard sta diventando veramente un formato sempre più grosso e la realtà è che standard sta andando molto male e la wizard non parlo degli ultimi mesi parlo dell'ultimo biennio l'ultimo gli ultimi tre anni due anni sta andando molto male la wizard sta continuando a cercare di allargare più possibile a far sì che sia più sostenibile possibile lo standard cosa intendo con sostenibile se voi se esce oggi una bomba di standard e vola comprate quella bomba rimarrà in standard per tre anni quindi voi siete più propensi a investire in standard come formato ok tra l'altro lo sarà lo spingono tantissimo perché le prossime due stagioni di qualifier saranno standard quindi la gente sarà costretta a giocare standard se vuole giocare competitivo io non vedo tutta questa gente che voglia giocare competitivo è il gioco competitivo c'è ancora ovviamente ma io non vedo tutta questa gente che voglia giocare competitivo soprattutto se la costringe giocare standard vediamo sicuramente questo avrà un impatto gigantesco sui prezzi il fatto che ci sono due stagioni di standard perché ovviamente ragazzi i grinder che ripeto secondo me non sono tanti in questo momento in italia ma ci sono e fate conto che se anche in italia abbiamo mille grinder se devono comprare delle carte in quattro per è ovvio che le facciano salire anche perché i box si aprono meno quindi aprendo meno box uscendo più espansioni le carte in giro sono sempre meno a torino facciamo fatica a trovare le carte i standard cioè se ti serve montare un mazzo di standard da zero fai fatica a torino live a trovare tutte le carte devi sbattere veramente tantissimo prima non era per niente così perché uscivano meno espansioni i venditori erano più propensi ad aprire tanto di un'espansione e comunque essendoci meno espansioni era più facile avere più carte di quelle di un'espansione tra quelle legali standard adesso invece è veramente un delirio veramente un delirio però aspettiamoci dei prezzi frizzantini per lo standard quindi se volete investire nelle staples di standard che usciranno fra un paio d'anni è il momento giusto per farlo allora questa era la notizia importantissima poi hanno spoilerato delle carte di foundation che adesso andiamo a vedere firex an arena che è una ristampa e mi piace molto che sia in realtà è già legale in standard perché c'è in firex all will be one però mi piace che sia che rimanga in standard fino a 2029 secondo me è un'ottima scelta poi abbiamo temporali manipulation che in realtà vorrei aprire per capire se è la versione spg vediamo sì 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 è la special guest fdn credo che sia una special guest non credo che temporal manipulation sia nel set ok è una special guest anche per esempio amber cleave c'ha spg quindi special guest dovrebbe essere sì quindi queste carte qua non saranno legali standa fino a 2029 ma le potrete trovare come carte speciali dentro le bustine di foundation e amber cleave mi piace molto stanno recuperando gli stili che hanno usato per il secret layer e fanno bene perché per esempio quello di amber cleave piace tanto temporale manipulation è bellissima veramente stupenda poi abbiamo anthem of champion che è una carta vecchia se non sbaglio comunque una carta di un po di tempo fa anche questa molto carina nine lives familiar eccolo qua questa invece era una carta che avevano spoilerato infatti di foundation vediamo anche queste di foundation del set e anche omniscience e di foundation in queste dovrebbero invece essere legali i standard fino a 2023 poi ci sono altre carte allora abbiamo nimi set visionari 6 mano a 55 volare non hai minimo non hai un massimo di carte in mano da tenere quando una fonte che controlli fa danno da non combat a un opponent tu peschi altrettante carte carta interessante però oggettivamente il più forte era quello che costava sei mana ed era incontrabile perché ovviamente essere incontrabile per un drop a 6 e tanta roba questo oggettivamente costa 6 non si protegge l'effetto della size and fa cagare e l'altro effetto è carino facciamo un bolt peschiamo tre ma io faccio bolt loro mi ammazzano in mizzet e non pesco tre quindi fa cagare purtroppo mi fa cagare c'è rispetto all'altro ovviamente l'altro era molto meno versatile perché costava sei specifici questo invece costa due specifici prossima carta mossborn hydra tremana trample questa creatura entra in gioco con un segnalino più o più uno sopra quindi non uno costo tre quando giochi una terra quando la terra entra in gioco raddoppi i segnali più o più uno su questa creatura questa carta molto interessante con le fecce perché ogni se noi facciamo lui è una fecce diventa 22 e poi 44 quindi con lui più una feccia abbiamo un 44 trampola costo 3 che nel magic attuale è una merda lo dico chiaramente ma ovviamente se poi facciamo un'altra fecce diventa 8 8 e poi si dice 16 quindi diventa molto più interessante quindi il feedback su questa carta non è male in commander magari si giocherà e oggettivamente un drop a 3 che diventa gigantesco in fretta parlo con le fecce senza le fecce è molto più lenta la curva seer slicer goblin belli ingrandisco facciamo un bello zoom eccole qua così li potete leggere anche voi se state guardando al 21 costo due goblin all'inizio della tua and step sei attaccato questo turno crei un goblin 1 1 ecco questa è la carta interessante nei mazzi goblin per esempio in commander ci potrebbe entrare tranquillamente perché fa quello che vogliamo cioè i goblin noi vogliamo averne più possibile è un drop a 2 se abbiamo attaccato ce ne crea un altro una rara decente non speciale ma decente in un agro anche in standard non mi stupirei se potesse essere giocato perché alla fine facciamo il drop a 1 poi attacchiamo di secondo facciamo lui e facciamo un altro 1 1 e poi ogni volta facciamo un altro 1 non è una super bomba probabilmente si giocherà solo in goblin commander ma chi lo sa vedremo archmage of runes 3 6 a costo 5 costa le instant sorcery costano 1 in meno quando lanciamo instant sorcery peschiamo carta abbastanza interessante carta da commander per lo più è però in commander la vedo bene nel senso che alla fine ci sconta l'istante sorcery e poi ce le cicla e non ha sfiga nei blu rossi a spell quindi buona carta 0 4 costo 2 crystal barricade defender abbiamo ex prof e preveniamo tutto il danno non combat che viene inflitto alle nostre creature abbiamo ex prof è una buona carta da side questa ottima ottima carta da side ci protegge le altre creature dalle bratte che fanno che fanno danni ci da ex prof quindi contro il combo non è male blocca bene contro agro oggettivamente non contro tutte le tipologie di deck ha un senso quindi una buona carta side è anche un artefatto che sia malus che è un plus dipende dalla dalle situazioni più malus per me però è una buona carta arabo the force fang tremana 22 gli altri gatti hanno più o più uno è quando arabo o l'altro non tocca in gatto entrano in campo crei un 1 gatto buona carta carta da commander commander gatti cani eccetera ci sono già quindi entrerà lì poi abbiamo zool ashur lich lord 22 costo 2 ward paga due vite quindi per targettarlo l'opponente deve pagare due vite tappi cassiamo uno zombie dal nostro cimitero in questo turno anche qui carta da mazzo zombie di commander come vedete questo queste tipologie di carte qua staranno in standard fino al 2029 però la maggior parte come si poteva immaginare alla fine magari sono specifiche per un mazzo di commander o per una tribalità che non è detto che poi sia forte in standard per tutti gli anni che mancano fino al 2029 assolutamente no magari si giocherà per un anno quella carta e poi non si gioca più in standard ok però va ad up gradare dei mazzi commander blottirsi con quale cinque mana 55 flying in the touch quando l'opponente perde vite tu guadagni altrettante vite vabbè carta che scomba lo conosciamo la combo guadagno vite l'altro le perde quindi le guadagno e le riperde e a vado in infinito carta che entrerà in quei in quegli architipi la 35 agosto 5 volare se una foto che controlli fa danno a un opponent o permanente che l'oppone controllo file doppio del danno 5 mana 35 volare drago è questa abbastanza interessante raddoppia tutto il danno da qualsiasi fonte che controlliamo carta interessante questa è un drago quindi un drago potrebbe entrare lo paghiamo 4 buona carta gigantosauro 5 mana 10 10 sarà la promo una delle promo game day forse non c'è scritto sotto che è una promo game day però il layout di solito è quello però vedremo comunque è una ristampa perché esiste già è una carta di m 21 19 forse 20 comunque uno di quei tre idetsugu second rights è una carta che esiste già se l'opponente a 10 vite esatte gli fai 10 danni gli stanta costo 4 si gioca in un mazzo commander non comune vabbè non mi so fermerei da un gradata da rara ecco questo possiamo dirlo tiny bones bubble buglare ho un feticcio per tiny bones quindi mi piace 13 costo 2 quando l'opponente scarta una carta la esili con un segnalino durante il tuo turno puoi giocare le carte che non possiedi con un segnalino dall'esilio e poi spendere male di qualsiasi colore può giocare anche le terre perché dice you may play e non cast molto interessante da p4 tutti gli opponent scartano una carta l'attiva sorcery ci sta non mi sembra una super bomba ci sta ci sta mazzo scartino demonic pact è una ristampa carta interessante altra ristampa l'aira altra di stampa maestro on pulse in standard ottima scelta wizard ottimo ottima scelta carta che al power level adatto adesso per lo standard herald of eternal dawn settimana 66 flash flying non perdi game e l'opponente non vince il game classica carta questa flash quindi abbastanza interessante costa 7 non troppissimo carta interessante allora qua abbiamo kaito che tra l'altro avrà una versione vedete pokemon con una qualatura pokemon sembra veramente la carta di pokemon 3 mana 3 mana 3 loyalty quando una creatura che controlli fa danno a combattimento a un giocatore gli dai segnalino più 1 fino a una creatura che controlli non può essere bloccata e peschi una carta e scarti una carta ok meno 2 crei un 2 1 ninja meno 9 prende un emblema quando un player cassa una spell crei un 2 1 allora il fatto che ogni qualvolta una tua creatura faccia danno gli metti un loyalty e la rende lo rende più interessante perché oggettivamente voi potete fare la curva fare lui rende fare più uno renderlo imbloccabile pesco scarto magari metti 12 segnalini e comunque se va 5 6 così in fretta e può essere pericoloso non mi sembra una super bomba però mi sembra un placewalker da guardare simulacro solenne standard e sono d'accordissimo sarà la via box ottima ottima scelta patria wizard ultima carta refute che questa invece credo sia nuova canter una magia costo tre peschi e scarti e tra l'altro è comune per pauper non credo che si giocherà almeno penso però è una comune per power allora andiamo alle prossime carte se ci sono sì queste qua nel resto non c'è niente ok ok either drift quindi quel set la che vi dicevamo prima simile boh sembra tipo mezzo caladesh vedete che i veicoli che cruiano ai costrutti ghirulk eccetera allora dea eders park è un place walker scusatemi leggendari artefact place walker equipment cioè qua siamo alla follia questo è leggendario artefatto place walker ed equipment ormai siamo alla follia come fa un artefatto ad essere un place walk la follia comunque ci saranno le numerate magari ci sarà solo lui come numerata sarebbe una scelta intelligente e 500 copie al mondo e vedremo cosa fa perché c'è solo il disegno non c'è l'effetto ghirulk bianco verde quindi figo che abbiano fatto le gilde dei ghirulk first strike trample 4 4 a costo 4 bianco verde quando entra in gioco cerchi nel tuo rimorio fino a due artefatti creature incantesimi che costano uno meno li riveli e li metti in mano questo è forte e molto intensivo di colori però oggettivamente se riesce a giocarle fortissimo c'è tuttora due tra artefatti e creature incantesimi che costano uno meno c'è questo in commander oggettivamente fa tre per uno ti rischia di tutorare quasi tutta una combo oggettivamente non è una brutta carta questa è una carta interessante molto intensiva ma interessante daretti rocketer engineer 5 mana stellina 5 a forza pari al l'artefatto concorso di mana più alto quindi se avete per esempio un artefatto che costa 4 come in questo caso lui è 45 quando daretti entra attacca scegli un artefatto nel tuo cimitero puoi sacrificare un artefatto se lo fai di recuperi quell'artefatto ecco fighissimo che faccia l'effetto quando entra perché l'avversario oggettivamente ci può fare poco se entra potete sacrificare un artefatto e recuperare l'artefatto che avete nel cimitero e questa mi mi intriga earth rambler 5 mana 76 vigilance trample è un veicolo che cruia 3 esili un artefatto una creatura al tuo cimitero questa questo veicolo diventa creatura buona non comune non mi sembra tutto sto granché tarkir eccolo qua building from una visita originale in questo piano di tarkir dragostorm will deliver dragostorm ti porta due pensieri che la gente ama tanto faccio night faccio faccio analis ed clan e gameplay and dragons ok ok quindi clan delle fazioni e i draghi quindi interessante a me piace tanto parkir quindi vedremo in misterado remastered abbiamo 22 ristampe dei dai navigator che è una carta che scompa in commander rara e poi abbiamo elgar marco di cui vi ho parlato prima sono molto contento di questa ristampa dei dai e una rara che valeva 5 3 4 5 euro adesso varrà niente come sempre accade l'ultimo e spider-man eccolo qua coming 2025 vedremo allora se vi è piaciuto il nostro video lasciate un like ma vi ricordo che seguiremo i mondiali tutto weekend mentre sono registrando il video lo ripeto c'è simone che è live quindi per dirvi siamo veramente sempre sul pezzo se vi è piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi al canale commentato si va e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi